Allora, io ti appartoriero per farci avrugare. Vabbè, mi fanno ne poche malattie. Sì, e sarà il marito che mi deve mandare. Sì, sì, sì. Come si fa? Dica, mi sento tutto. Cameriere? Scusi, cameriere? Signore Desidera? Guarda che sei simpatico, veramente. Non ti faccio vedere tutti i pensieri per la testa, eh? Perché io sono un ragazzo fidanzato, con una splendida ragazza. E poi vengono gli uomini che non mi piacciono. Mi fanno schifo, quando si crede. Io ti volevo dire semplicemente. Non esista, è inutile, è inutile. Ma non fa malvare o no? Tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma ficcati bene in destra, che con me non c'è niente da fare, eh? Sì, tu voglio... Per prima cosa a me non piacciono i femmine. Ma seppure mi piacciono gli uomini, certo non sei più il mio tipo, eh? E' come lui. No, forse sto scostumato, ma non c'è l'occasione. Ti posso fare una domanda? Basta che il telemane ha un posto, eh? Ma ti rimanai una. Oh, rispondo. Perché la signora Hippocrate va a farcelo una? No, perché mi hai preso? Io mi faccio le affremini. Tu vuoi sentire qualche cosa che io ho ascoltato, eh? Mai, mai e poi mai. Per nessun motivo. No, eh? No. Ma che è di motivo d'accordo? Nemmeno per questo motivo? Neanche per quelli. Nemmeno per questi motivi? Beh, per questi motivi io sono costretto a rispondere. Beh, sì. Dimmi, dimmi, che cosa vuoi sapere, Nello? Perché la signora di Porto va a Barcellona? Beh, insomma, ho sentito dire, eh? Ma non è che io sto lì a tornare gli anni di una volta, eh? Insomma, che a Barcellona ci sono dei dottori che studiano come è e come non è, perché le coppie non hanno i figli. Sì, ecco, bene, prima di andare. Scusa, scusa, ma dove vanno? In quale critica? Va beh, ma per questi pochi motivi che mi hai dato, mica ti posso dirli in più, eh? Muo giù boxe, vedi i soldi cani. Avanti, vieni. Ciao, vieni. E che dobbiamo fare comunque, eh? Capo, qui le informazioni costano. Tieni, tieni, ho capito tutto. Avanti, parla. Dimmi. Beh, per caso, ma non è che io sto lì a mettere le mani al gestino, eh? Insomma, ho trovato, ecco, questo biglietto. Ah, matta, proprio la notizia che c'è. Sei stato bravi sangue. Sì, ma non ne ho capito niente. A me che buono, non mi piacciono. Mi fanno schifo. Sì, ma a me. Voi ci sono rinanzato con Gisalani, eh? Ma è questo? Lo fa, lo fa. Medcolare. Benissimo, benissimo. Oh, ho lavo. A miraglio, a miraglio. Ah, che buona, subite, buzi. Ti comandate. Grazie. Allora. Ciao.